Nell'episodio precedente troverete delle capre di montagna, dei paesaggi mozzafiato e delle salite improbabili, per cui se ve lo siete perso ve lo metto nella i qui in alto a destra. Per tutti gli altri, buona visione! Ma prima di cominciare, come sempre, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e lasciatemi un bel like e anche qualche commento. Bella! Il Lory non ci ha seguito nel pezzo di Endurata e quindi è davanti a noi perché ha fatto la strada asfaltata e sarà già arrivato al Croce Domini. Da lì torna indietro! Guarda, guarda dritto mi vedi? No, torna indietro, siamo sotto noi! Non ti sento! Torna indire! Torna indietro, Lory! Ma se vuoi la strada normale? Sì, tornando indietro, sì. Ok! Bella! Stiamo salendo nella base Nato. Che bella è! Che figata! Vai! Cazzarola! Ma che figata! Ragazzi, ma dove vi porto? Cazzarola! Dovete ammetterlo! Che spettacolo ragazzi, che spettacolo! Bene, siamo qui riuniti! Ma allora, con che freddezza entra! Sprezzante del pericolo! Me l'aspettavo fino ai goldoni! Un po' inquietante sì! Quanti cavron! C'è schifo! Andiamo? Sì! Andiamo! Bene, bene, bene! Inizia il Croce Domini! Quanto mi piace questo passo! E siamo al Croce Domini! Dottore! Ma che gran figata! Ti è piaciuto, eh? Bellissima! Comunque nel video non rende un cazzo! Guardalo che arriva! Stavo stragiando! Bello! L'ultimo pezzo, l'ultimo pezzo, le curve qua in discesa con i buchi si sono rovinate molti più! Quando l'avevo fatto io non c'erano quei buchi lì! Nel frattempo che facevo quello stavo pensando a te con... Ma è facile! Ma è tranquillo! Cos'è bello sei? Stai riprendendo ancora? Sì! È veramente importante! Transumanza! Che è il bestiame! Guarda che belle le mucotte! La transumanza! Bella, bella, bella anche questa! Che non l'avremmo mai fatta se non avessi prenotato un albergo in giù da questa parte! Un albergo, buonanotte! Un ristorante giù da questa parte! Figa, l'ho sterrato pure per il ristorante! Beccati sto scorcio! Occhio Lori che hai appena detto stasera la porto a casa senza sdraiarla! Bala, lecce! Bene, pranzetto fatto! Siamo ripartiti adesso con la panza piena! Dunque, 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 vi spiego! Linguine al ragù di cervo! Vinello per Eddie! Birretta per me! Caffè ammazza caffè! E si ritorna a casa! Ciao mamma, guarda come mi diverto! Bene ragazzi! Io non so ancora quanta autonomia ha l'SD! Non avendo voglia di cambiarla, visto che il giro è quasi finito, io direi che posso salutarvi perché per oggi è tutto qui! Stiamo ripassando ora ora davanti a Croce Domini che salutiamo al volo! Ciao Croce Domini! Direzione casa! Spero che il video vi sia piaciuto! Spero che dopo un video del genere in cui ho dimostrato tanto impegno ed edizione, soprattutto nella strada percorsa, spero vivamente in una vostra iscrizione e in una campanellina delle notifiche, mi raccomando, perché è importantissima la campanellina per vedere sempre i miei video in maniera aggiornata, appena li butto fuori! Detto questo, io posso anche salutarvi da questo paesaggio spettacolare, dal Croce Domini, dallo Sterrato e dal Trio Matusa, un saluto! Buona giornata e buona moto! Ciao! Mangiato abbiamo mangiato, bevuto abbiamo bevuto, andiamo a dormire che siamo a posto! Sì, oggi hai detto pulisco pulisco, mi sono preso sto brontosauro che c'ho sul Parabrezza stamattina in autostrada, me lo sono tenuto tutto il giorno, ma porca vacca! La facciamo sporca? Aspetta! Ma tutti adesso sì, cazzo! Ma addio! Comunque la roba sporca l'ho anche filmata! Ma un bel! Ahahahah! A presto! A presto!